Gli NGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3 in provincia di Parma sabato 8 aprile 2023 alle ore 7.42. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri nei pressi dei comuni di Compiano e Tornolo. In seguito al terremoto alcuni individui hanno rapidamente utilizzato i social media per condividere la notizia della scossa non sono stati segnalati danni a persone o cose.